Sono di ritorno qui sulla mia mini guida a girare un video che ha ad oggetto la scheda madre, la mainboard contenuta all'interno dei nostri giradischi 1200. Se siete curiosi di sapere che tipo di scheda madre è contenuta e alloggiata all'interno del giradischi basta rimuovere il piatto rotante e la cover in plastica e potrete poi analizzare il vostro giradischi. La casa Technics ha prodotto tantissimi pezzi, tantissime unità di giradischi Technics 1200 o comunque giradischi che montavano questo tipo di elettronica, quindi dagli anni 70 agli anni 2000 troveremo alcuni cambiamenti, alcune modifiche che vennero apportate dalla casa madre, dalla casa produttrice. Oggi vi farò vedere questa scheda madre che viene installata all'interno del mio giradischi prima serie, un'altra scheda madre che veniva montata all'interno di un giradischi anni 80 e una scheda madre in ultimo montata su un giradischi anni 90. Qual è la prima cosa che va notato dalla giradischi prima serie passando poi per un giradischi anni 80 e uno di produzione più recente? Va visionato subito un dettaglio che vi fa capire la vetustà della vostra scheda madre. Questo piccolo dettaglio e cioè questo componente elettronico montato sulla scheda madre è il diodo raddrizzatore. infatti sulle schede madre più vecchie veniva montato un diodo raddrizzatore posto in orizzontale con una piedinatura a quattro pin non in linea. Sia in questo prima serie sia in un giradischi anni 80 troviamo lo stesso diodo raddrizzatore, vedete? Con la stessa identica piedinatura. Le cose cambiano quando negli anni 90 fino alla fine della produzione del giradischi 2002, negli anni 2000, viene sostituito il diodo raddrizzatore che avete visto pochi istanti fa con questo diodo raddrizzatore con una piedinatura tutta in linea. Quando trovate una scheda madre che ha questo tipo di diodo raddrizzatore state pur certi che state acquistando un giradischi molto più giovane e meno usato di un giradischi anni 80 o di un prima serie. Ma ci sono altri dettagli che potete notare e cioè la scheda madre utilizzata nei primi giradischi 2002 in realtà veniva utilizzata anche per altri giradischi della Technics della serie SL e sto parlando di dei giradischi 1500, 1600, 1700 ma anche sui SP25 ad esempio montavano una scheda madre così e cioè una scheda madre che ha ancora impresso sulla PCB dei fori dei collegamenti delle vedete dei fori vuoti dove non ci sono installati saldati i transistor che venivano invece montati per quelle versioni dei giradischi che prevedevano un determinato automatismo quindi la Technics produceva questa scheda madre e poi la utilizzava su vari modelli nella fattispecie questo veniva installato su di un 1200 come vi dicevo prima serie ma se comprate un giradischi 1600 la scheda è identica cambieranno però alcuni dettagli e alcuni componenti della scheda madre vedete anche questo degli anni 80 ha lo stesso tipo di scheda madre di PCB stampata dove ci sono ancora le serigrafie di alcuni componenti che in realtà non sono saldati non sono presenti sulla scheda madre inoltre possiamo accorgerci del fatto che alcuni componenti elettronici della scheda madre sono cambiati sia nella qualità sia nella colorazione sia nella dimensione sto parlando infatti dei delle resistenze dei condensatori questa scheda non è stata non è stata modificata non è stato sostituito alcunché quindi trovate i condensatori questi ma anche questi elettrolitici di questa dimensione le resistenze delle classiche resistenze e possiamo già paragonarli a quest'altra componentistica installata su di un giradischi anni 80 vedete come i condensatori cambiano colore cambiano di dimensione questi elettrolitici sono stati sostituiti da me in realtà in origine erano azzurrini questi invece sono blu come questi installati sul prima serie ci sono alcuni dettagli che già cambiano alcuni componenti che già cambiano tra un prima serie è un giradischi anni 80 quindi oltre questi condensatori che vi ho indicato anche il quarzo che vedete qui l'X201 ha una forma differente di questo quarzo X201 montato su quest'altra scheda ma ancora saranno differenti questi due questi due mainboard da questa prodotta negli anni 90 guardate come i condensatori si fanno molto più piccoli la scheda è molto più ordinata scompaiono i fori per l'installazione delle resistenze dei transistor che servivano a scopi differenti e ulteriori non presenti sul piatto SL12 MK2 anche il quarzo è differente lo vedete più piccolino le resistenze si sono rimpicciolite un diodo Zener molto piccolo e una grande differenza è posta al di sotto della scheda madre infatti come potete vedere vicino al diodo raddrizzatore ci sono due condensatori su di una scheda invece prima serie e sulla scheda anni 80 i condensatori che vi ho fatto vedere questi qua li ritroviamo al di sotto della PCB vedete? ma anche al di sotto del circuito integrato e di questo transistor troviamo altri condensatori saldati sulla parte posteriore della scheda madre cosa che su questa scheda madre più recente non troviamo perché sono stati alloggiati sulla parte superiore della nostra PCB della nostra scheda madre infatti adesso vi mostro come questa scheda madre al di sotto ne è priva vedete? non ci sono condensatori saldati sulla parte posteriore ed è molto semplice trovare questi condensatori che abbiamo visto al di sotto della scheda madre nella parte superiore che sarebbero questi due uno e due vedete? questo e questo qua infatti sulla scheda madre anni 80 non ci sono allora l'evoluzione della della scheda madre l'utilizzo di componenti aggiornati condensatori elettrolitici più nuovi resistenze più piccole nella dimensione ma non nella nella loro funzione che devono svolgere ha reso questo giradischi un prodotto molto longevo molto longevo perché è molto semplice l'elettronica che viene utilizzata c'è una grande ripetibilità di ricambi e continuamente la Technics ha cercato di eliminare quelli che potevano essere i piccoli difetti nella produzione di queste mainboard infatti la presenza dei condensatori al di sotto del circuito integrato AN6680 rende leggermente più rognoso la sostituzione in caso di rottura di questo circuito integrato quindi la scelta di una scheda madre la scelta poi di un giradischi e il suo valore a mio avviso dovrebbe essere subordinato anche al tipo di componentistica elettronica che viene saldato che viene installato sulla PCB ripeto ancora una volta quindi che una scheda madre nel caso di specie anni 90 ha un valore sicuramente superiore ad una scheda anni 80 va bene ci sono però alcune cose che ancora devo dirvi che riguardano le produzioni successive a questa infatti troveremo un nelle produzioni più recenti il condensatore questo non più con una piedinatura orizzontale ma sarà posizionato in maniera verticale con i due pin sottostanti e inoltre ci sono state delle schede madri che non montavano più dei socket neri ma utilizzavano dei socket di colorazione bianca con un diverso sistema di ancoraggio sistema di installazione tra il pitch la scheda dell'on off e della luce target light a questo punto vale la pena tornare a parlare del braccio del giradischi technics questo perché potrebbe essere un indicatore della scheda madre contenuta all'interno del giradischi infatti nella parte retrostante il bilanciere del braccio del giradischi nella parte in cui si avvita il contrappeso nel caso in cui il braccio presenti questo tappino in gomma vedete adesso cerco di rimuoverlo ecco se il vostro braccio o il braccio del giradischi che vi apprestate ad acquistare a questo tappino in gomma che veniva utilizzato per i modelli dei giradischi technics che avevano delle regolazioni sugli automatismi del braccio il movimento automatico del braccio allora noi all'interno del giradischi troveremo sicuramente una scheda madre prodotta negli anni 80 quindi con quelle particolarità che sono riferite al diodo raddrizzatore e la presenza dei condensatori nella parte inferiore della PCB quindi nel caso in cui voi stiate valutando l'acquisto di un giradischi technics e volete assicurarvi che il vostro il vostro technics abbia una scheda madre quanto più recente possibile allora fatevi inviare una fotografia della parte posteriore del braccio per vedere se c'è o meno questo tappino nel caso in cui notate la presenza del tappo in gomma allora potete valutare o di non acquistare il giradischi technics oppure di spuntare un prezzo decisamente inferiore ad un technics che monta invece una scheda madre più recente se noi acquistiamo un giradischi che anche esteticamente può essere perfetto dobbiamo sempre valutare il fatto che l'elettronica tutte le elettroniche hanno una vita quindi i condensatori elettrolitici probabilmente avranno una vita più breve di quelli montati su una scheda più recente infatti potete dare uno sguardo ad una mia videoriparazione che aveva ad oggetto questa scheda madre e aveva proprio un elettrolitico in questa parte del giradischi rotto io l'ho cambiato tutti quanti perché tutti quelli che riguardano i collegamenti ai pin 22 23 24 del circuito integrato in modo tale da restituire una certa longevità a questo giradischi che purtroppo era stato oggetto di una rottura tirando le somme io vi consiglio di acquistare il giradischi technics 1200 vuoi che abbia una scheda madre più vecchia vuoi che abbia una scheda madre più recente ma sicuramente spendere più di 500 euro per un giradischi anni 80 che potrebbe avere una vita più breve di un giradischi anni 90 tenuto conto anche del fatto che quando c'è una rottura è sì facilmente riparabile però vi costa del tempo e del danaro ma in più c'è anche un'altra cosa da aggiungere e cioè anche la scheda del pitch e il pitch stesso potrebbero essere più vecchi e quindi avere una vita inferiore di un giradischi più nuovo ma gli stessi cuscinetti del braccio potrebbero essere più ammalorati più duri più resistenti al movimento del braccio a dispetto di un giradischi più nuovo che ha cuscinetti più efficienti e quindi sicuramente andrete a comprare un giradischi migliore è vero anche che c'è la possibilità di andare a vedere quelli che sono i codici di produzione del giradischi però io ormai non do più peso a quello che è riportato sulle etichette perché ormai da dieci anni molti giradischi vengono riparati vengono sostituiti i pezzi quindi l'etichetta è un indicatore di età a patto che non sia stato modificato aperto e sostituito nella componentistica con questo è veramente tutto se vi è piaciuto il video lasciate un like se volete farmi delle domande scrivetemi un commento e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale grazie grazie grazie